ciao amici condividiamo la live iniziamo i testi con la nissan inizia i testi di veicoli senza pilota eh non la tesla la nissan caspita già dal 2015 che c'è l'apple i watch ciao ragazzi come state ciao stream elements ciao amici sai che si compra un sacco di macchine fa un sacco di caldo oggi allora l'audio funziona che bella sta macchinetta qua beh beh l'alfa alfa e la reno 5 turbo raga la storia delle auto questa che cos'è la mercedes dovrebbe essere la mercedes sembra ciao dsc amico mio compriamo un sacco di auto sei tu il primo mi devi dire che macchina ciao stream elements compriamo auto dimmi dimmi che macchina compriamo dai dsc sei il primo a entrare grandissimo non saprei ok allora facciamo una bella cosa visto che abbiamo tutti questi money fatti col il grande impegno di zan e boy che oggi ha avuto una voglia incredibile grazie mio figlio e carla anche un pochino oggi le pomme andiamo a vedere prima le auto usate dai ciao amici di twitch benvenuti ragazzi allora e ragazze o loki o grande loki grandissimo ma grazie che ti sei iscritto 31 milioni di sc loki scegli una macchina ti compro una macchina loki ti compro una macchina ciao giulia pazzesco ragazzi abbiamo farmato come dei matti allora dsc mi deve dire una macchina da comprare il mitico loki mi deve dire una macchina o comunque grazie loki e grazie mille si si a me piace tantissimo streammo questo gioco perché secondo me tanta roba ciao fra che grandissimi raghi allora ragazzi 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 compriamo un grande loki compriamo un sacco di macchine allora biglietto con tanti soldi io vinco pochi soldi ci scommetto ci scommetto ragazzi ah peggio cioè peggio dei pochi soldi un turbo compressore per la mazza vabbè vabbè la salvi facciamolo lì tanto non ce ne facciamo niente allora andiamo a vedere immediatamente ciao amici benvenuti benvenute è lunedì sera noi giochiamo a grand turismo che bella non corre amico mio compriamo automobili spendiamo un botto di soldi allora notte nel e type nord america ma si ma noi che ce ne frega noi la compriamo guardate che bella ragazzi che linea sharder grandissimo ciao amici benvenuti allora sono carico stasera ragazzi sono carico perché compriamo macchine voi sapete se seguite il mio canale che quando si comprano le macchine io sono sempre 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 oh la livra è quasi pronta grande sharder buonasera ark and slash salutate il mio amico ark ak and slash world87 ragazzi seguite il suo canale perché è bravissimo eh fa dei video pazzeschi con i giochi mamma mia raga è veramente è veramente è veramente bravo eh il grandissimo pepe grande grande pepe grande pepe allora andiamo a provare sta bellissima auto e type cupè del 61 dai che poi ti facciamo a pezzi con le lame bravo bravo io ti sgommo sopra tu mi fai a pezzi con le lame io ti sgommo eh va bene dai facciamo una cosa per uno allora ragazzi andiamo al lago maggiore con questa bella macchinetta eh facciamo un arcadino molto molto principiante perché questa macchina credo che non vada nulla e credo che non tenga nulla ah grande amico mio sapete che quando entrate nelle mie live ragazzi se avete il canale vi faccio pubblicità eh vi faccio pubblicità oh non funziona il volante grazie grazie amico come stai marco grazie grazie sto benissimo spray dai allora allora eh stasera carla ha fatto i wuster fatti in una maniera fichissima oh 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 vabbè scusami amico eh eh con l'insalata e pomodorini e pane che a me piace un botto Roba proprio tranquilla Niente di che Però fatti in una maniera un po' particolare Molto buono Molto buono A rondelline infatti Buone, buone, buone Pizza La pizza è sempre, raga È sempre il top la pizza Non perché noi siamo italiani Ma perché la pizza è la pizza La pizza è fantasma Uh Pasta Piselli prosciutto secondo Bello Buono, buono, raga Oh, la pasta è top Oh, che bella da dentro Non toccatemi la pasta, ragazzi Perché Paste grigliate Bel rottamone Sì, hai ragione, fracca Beh, dobbiamo calcolare Che è una macchina del 69 Io credo che questa macchina del 69 Ce l'avevano solo in pochi, eh I pochi eletti Vediamola da fuori, va Che forse facciamo più bella figura Allora, a parte che quando Sterzate lei va dove vuole E siamo a 120 all'ora, eh Forse tiene di più il 500 Comunque compriamo un sacco di macchine stasera, raga Sì, 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 sì Allora, tu calcola Giulia Che mio papà E mio amato papà Mario Ha sempre voluto aprire un negozio di pasta La faceva lui Ed era una cosa spettacolare Sì, 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 i wuster buoni Prendiamo il macellaio Che c'è qui nella mia zona Che spero non vada in pensione Ma purtroppo, ahimè Sì, sì, era bravissimo La pasta sua era fenomenale E me la ricordo ancora oggi Fai te Che sono sei anni che il mio papà non c'è più E tu pensa che praticamente fa lui i wuster Sono una cosa spettacolare Non so cosa butta dentro Non so cosa fa Comunque sono buonissimi E, eh, grande, grande Giulia E praticamente Cosa succede? Oh mio Dio Questa macchina non tiene neanche quando sta facendo la curva Senza accelerare È proprio un bel rottamozzo La compriamo, la buttiamo dentro al parcheggio E la lasciamo là Al garage E pensa che tra Non credo tantissimo Andrà in pensione Chiude il negozio E sarò veramente rovinato Eh, eh, sì Eeeh È più l'amore poi che il dolore Te lo dico io Oh, dai Grande cugino di Scharder Dai, dai, ma viene dentro stasera? Eh, che tu sappia Sì, 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 sì Assolutamente, Giulie The show must go La vita va avanti Ciao, monster Grande Monster Monster, monster, monster Monster, monster, monster Monster Benissimo, grazie C'è un mostro sei Ha, ha, ha Il nostro amico monster È un mostriciatolo Viaggia, viaggia forte Che a sto punto Le prossime gare Che facciamo insieme Devo speronarlo E devo buttarlo fuori All'inizio Perché se no Le vince tutte lui E non va bene Ha, ha, ha Grazie amico Che mi ha messo il diritto Ragazzi Monster Mentre io viaggio Con la BRZ No, si chiama BRZ La Subaru Sì Io ti faccio viaggiare Con questa Ok Così diciamo Che forse Forse riesci lo stesso A vincerle tu Ha, ha, ha E soprattutto Salvare le play Bravissimo Perché Se non salviamo le play Ragazzi Siamo Dei Pazzi Abbiamo fatto Una gara Ieri sera Ragazzi Incredibile No Davvero Sei un grande Sharder Dimmi quando posso andare A vederla Caspita Grazie mille Amico mio Con questo Ti devo una maglietta Extra Quando le farò Nel 2027 Non ho GT oggi Ce l'ho Mercoledì Che sono da papà Per fortuna Ah Che peccato Monster Che peccato Che non hai Gran Turismo Avevo proprio Voglia di perdere Allora Vediamo Allora Mercoledì Facciamo Warzone Eh Eh Ragazzi Mercoledì Facciamo Warzone Questa macchina Non va neanche Ciao Uomo Tigre Grandissimo Ehi Benvenuto Ragazzi Salutiamo Uomo Tigre Era nella Mega Live Di Bruschetta Prima sono andato A trovare Il mio amico Bruschetta C'era Uomo Tigre E quando ho visto Ciao Vamo Grandissimo Quando ho visto Il suo tag Uomo Tigre Ragazzi Mi è partita La musichetta Non so Voi Bellissimo Grande Uomo Tigre Bella lì Raga Oh Grazie Dell'iscrizione Uomo Tigre Grazie 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 Grandissimo Allora Adesso Adesso L'amico Sharder Sì Sì Giulie Appena Ho visto Oh Mio Dio Che rottame Vediamola alla fine Dai La fine La vediamo da dentro È bellissimo Uomo Tigre Ma giuro Mi è partita Appena ti ho visto Ho detto No Sei un grande E mi è partita La canzoncina Nel cervello Vabbè Grandi Ciao ragazzi Ciao 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 Uomo Io provo a Raga che ce ne vado a vedere immediatamente gli ultimi 45 minuti della scorsa live Eh sì è vero è vero è vero Non abbiamo salvato il replay Però se avete voglia ragazzi di vedere una live fighissima dove eravamo io Monster Sharder e non mi ricordo più se c'era anche il mitico il mitico Dottor Master Non me lo ricordo sinceramente però è stata una live fighissima gli ultimi 45 minuti che c'era l'ultima gara che abbiamo fatto è stata una cosa da 6-7 Cos'era 6-7 giri così Così era Uno Prima andava Marco Drums Poi andava Andava Eh Il mitico Monster Poi Eeeh Sharder Ieri Ieri sera Marco Sì 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 Giulio Ieri sera è stata veramente fantastica Fantastica Credo che era ieri sera Ragazzi io non mi ricordo nulla Quindi Allora vediamo un attimo Guardate la macchinina che bella Eh Io non c'ero Caspita Giulio Sei sicura? Boh Posso Se le gari comunque sono così Eh amico mio Quello che deve capire la gente No? E' che ormai Formula 1 Tutti questi sport sono diventati troppo costosi No? E quindi C'è Chi ha più soldi vince Anche se un po' si sono stravolte le cose Però la Ferrari non è una che non ha i soldi comunque No? Eh Grande Giulio E' vero vero Ieri pomeriggio c'era Quindi vedere le gare di Marco Drums Games Channel Sono molto molto più interessanti di vedere le gare di Formula Volo Di MotoGP Della 24 da Dynamite Eh lo dico sempre io raga Vedete vedere le nostre gare che sono più belle Oh brava bravo Andate a vedere la live di ieri sera Ok dai Allora amici Il grande Sharder ha fatto E' vero è vero è vero è vero è vero Bellissima Monster Bellissima Mi sono divertito un botto eh Mi sono divertito un botto F1 è bravo bravo è vero 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 è Sì sì no io ero andato Infatti quando mi hai detto Ne facciamo un'altra Non ci stavo dentro Allora è questa vero Shardern La Huracan GT3 Ciao ragazzi benvenuti Mitici e mitiche Benvenuti alla live di Marco Drums Grandi 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 Shardern è questa Sì no stavo morendo Stavo morendo ragazzi era Ok Io le ho quasi tutte le Lamborghini Frac io le ho comprate tutte Le sto comprando una in più Tanto per cambiare la livrea Grande Loki Ma vai tranquillo amico mio Guarda ti faccio vedere Loki Il livreista non so se è giusto Ma sul mio canale faccio quello che voglio Quindi se invento anche i termini italiani Ragazzi non me ne frega niente È così Perché non so se si può dire livreista Penso di sì però Ci sta ci può stare ci può stare Il livreista Più bravo del pianeta È il mitico Shardern Shardern ha fatto di quelle cose Incredibili Guarda Loki Stiamo comprando macchine Ma si possono comprare Ne puoi comprare anche 50 C'è anche un trofeo Che devi comprarne 10 uguali Guarda Loki Ti faccio vedere Il lavoro che ha fatto Sì sì puoi comprarle Puoi comprare anche doppie Guarda eh Guarda Loki Il lavoro che ha fatto Shardern Per Marco Drums Games Channel Che meraviglia eh E l'uomo tigre ha vinto questa sfida Esatto 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 L'uomo tigre è grandissimo Sono andato prima nella Nella mitica live Del grande Guarda questa Loki Del mitico Bruschetta Eh guarda Se vedevi le mie Proprio mie Fatte personalmente da me Ti veniva da ridere O da piangere Infatti per fortuna Ho conosciuto Il grandissimo Marco Shardern Design E fa questi capolavori Quindi il mio canale È svampato Proprio salito di livello Overrace Guarda Ti faccio vedere L'altra che mi ha fatto Guarda Questa è la sua eh Questa è quella di Shardern Guarda che bella È veramente bravissimo ragazzi Dobbiamo fare applausi Applausi a Shardern Ma Guarda Loki E tutti voi ragazzi Nuovi che siete entrati È uomo tigre È bravissimo È bravissimo E fa delle cose incredibili Poi vi faccio vedere L'auto che ha fatto mia moglie Sì 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 Assolutamente Chi Allora vi dico una cosa Chi farà un abbonamento Al mio canale L'abbonamento col Prime O in abbonamento Verrà messo Il suo nome Nella prossima livrea Giusto Shardern Abbiamo deciso di fare questo Questa è di Bragali TV Che è mia moglie Che corre Adesso non so se corre oggi Perché Stanno facendo un sacco Di chilometri Raga Allora questa è la tuta Anche per Guardate la tuta Raga Cioè adesso Io non voglio dire Ma Anche la tuta Cioè guarda la tuta I colori Le Madonna Incredibile Incredibile Allora andiamo a vedere Quella del mitico Morris Uuuu 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 Amico mio È vero Loki È bravissimo È bravissimo Infatti io sto cercando di fare Marco Drums Team Racing No Loki Quindi scegliamo I più bravi O comunque chi gioca con noi Chi gioca con noi spesso Farà parte del mio team Quando giochiamo online Viene con noi E praticamente E praticamente È Uuuu La M Colcoso Se è un mito È bellissima Ma no Aspettate Scusate raga Devo mandargli la foto Assolutamente Madonna Allora amico Morris E tuo papà Ti abbiamo Io e l'amico Sharder Bellissimo Abbiamo fatto La livrea Per te Grandissimo Morris E per tuo papà Su Gran Turismo Adesso ci siete anche voi Guarda che bella Ti piace? Grande Morris Adesso gliela mando anche a te Maurizio Amico mio Vieni 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 a scaricare La tua livrea Amico Bellissimo Scusa se si vede male La telefona Grazie Grazie Sharder Grazie Marco Drums Grandissimo Maurizio E grandissimo Morris Game Ok Ho fatto la Scusate Ciao Kiri Grande Kiri Guarda La livrea Che ha Harder Al mitico Maurizio Che è il papà Di Morris No Sharder E E' bellissima Ciao Thomas Grande Sto da dio Sto da dio Sto benissimo Sto benissimo Sono un po' stanco E fa un caldo assurdo Però sto giocando Sto giocando insieme a voi Ci stiamo divertendo Quindi va Va benissimo Carla è andata fuori col cane Quindi arriveranno morte E mi sa che non gioca neanche stasera Però vabbè Giochiamo noi Guarda La mitica Livrea Che ha fatto Sharder Per il grandissimo Maurizio Che è il papà Di Morris Gamer Che ragazzi Ha vinto il torneo Di sabato e domenica Ha vinto contro tutti Ah Caspita Rocky Dai Trova il modo di abbonarti Trova il modo di abbonarti Amico mio Dai Trova il modo di abbonarti Un modo c'è sempre Per abbonarsi Ciao Grande Grandi Guardate la Livrea Che ha fatto Il mitico Sharder Eh A Morris A Morris Adesso glielo sto mandando Glielo sto mandando Ecco Sta ringraziando Allora Allora ragazzi Ha ringraziato tantissimo È felicissimo Bella lì Cuoricini E occhiolino col cuoricino Ero con Morris Alton Neumann Nella seconda squadra Bella Beh davvero Ade Scusa Scusa Grande Guarda che cosa Gli abbiamo fatto Ade La livrea si può avere solo con l'abbonamento Sì sì L'occhi Purtroppo Abbiamo deciso io L'amico Sharder Visto che ci perde due ore Passa per farla E Il Per 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 Allora Non è proprio avere la livrea Prende la mia E Allora No scusa L'occhi Scusa scusa No Per avere la livrea Come queste Però È chiaramente Sulla mia base Col vostro nome Dovete far parte del team racing Invece Chi si abbona al mio canale Sulla mia livrea Quella nuova che avrò di Marco Drums Ci saranno i vostri nomi I vostri nomi Tipo tu che sei Loki 4708 Capito Capito Loki Chi Chi fa l'abbonamento Avrà il suo nome Sulla mia macchina Quindi ogni volta che io vado a competere Siamo nelle live Ci sarà sempre il vostro nome Chi mi fa l'abbonamento Al Prime E al canale Chi invece diventerà Far parte del team racing Quando fate parte Quando vedo che giocate spesso Allora poi Dopo vi facciamo la macchina Perché comunque ragazzi Sharder per fare una macchina così bella Perde due ore O tre ore anche Quindi capite che Ciao Ade Io sto benissimo Grazie 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 Gentilissimi ragazzi Voi come state Tu come stai C'ho 30 milioni Su è lo stesso livello di Sharder Ancora più bella Già la macchina è bella Di suo Sì 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 No vabbè Le livelli di Sharder ragazzi Sono un altro pianeta Allora noi adesso Prendiamo e andiamo a mettere Non hai capito bene Allora ti spiego Chiri Chi si abbona Al mio canale Quindi mi fa l'abbonamento Verrà scritto Il suo nome Quindi non lo so Tu sarai Kirit Sharder 1998 Loki 4708 E sulla mia macchina Ok Sulla mia livrea Ci sarà SpecialTanks Amici di Twitter No Twitter Siamo su Twitch Amici di Twitch Il nome Ok Invece Chi fa E questo è basta Questa è una cosa Chi farà parte invece Del team Avrà la livrea Però sono due cose diverse Spero Di essere stato più chiaro Adesso ragazzi Perché sono preso Dalla foga Ok Sono stato più chiaro Chiri Si capisce adesso Mamma mia Mamma mia Ma le fai sempre più belle Beh no no Non serve volante obbligatorio Loki No no Basta che giochi Quando siamo online Vieni dentro Se ti va di portare amici E cose sul canale Ti ringrazio tantissimo Ma basta che vieni dentro A giocare Io devo vedere che Giocate Capito Se giochiamo spesso Siete bravi No no Non servono provini Basta che quando giochiamo Vieni dentro Giochi e poi facciamo Devo trovare gente Che gioca Capisci Io ti faccio un esempio Adesso io gioco da lunedì Al venerdì Sabato e domenica Se io vedo che entri Al lunedì E poi mi entri Il venerdì Della settimana dopo Esatto È modo di fare pubblicità Capisci Allora Non è che ti posso mettere dentro Il verde non ci deve essere Perché? Eh capisci? Capite ragazzi Cioè Magari Mi spiego un po' male Mi sto Sto facendo un po' di confusione A spiegarvi perché Perché Sono mega esaltato Dalla livrea di Morris Allora facciamo così Allora facciamo così Giocate con me Ok? Se poi io decido Che voi fate parte Del team Marco Drams Games Racing Team Vi facciamo la livrea E giocate con noi Ok? Così Se invece Giocate una volta ogni tanto Per dire Io adesso stasera faccio la gara No Loki Tu vuoi giocare con me Ci scambiamo il nick Vieni dentro Giochi Si corre Chi vince Chi vince Chi perde Chi perde L'importante è divertirsi Va benissimo così Punto e basta Non serve niente Non facciamo niente Non serve niente Invece ragazzi Per avere Il vostro nome Dell'account di Twitch Sulla mia livrea Quindi sulla mia livrea Ci sarà scritto Special thanks Grazie mille Dovete fare un bel abbonamento Al canale Dai 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 ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Uuuuh Devo provarla Se qualcuno regala un abbonamento Vale lo stesso Assolutamente si Ok capisco Grazie Gentilissimo Gentilissimo Tu Loki Nick Grandissimo Guarda Nick Cosa ha fatto Il grande short Scusate se parlo un po' da scemo Ma sono veramente esaltato ragazzi Sono veramente Veramente Esaltato Voglio fare questa gara E poi condividerla Con il mitico Morris Allora Uuuuh Il verde si Ah non è verde Vabbè piace tantissimo così Sei sicuro? Che colore era? Mamma mia Le lambo Le lambo raga Oh Kiri Perfetto Così ti voglio Amico mio Oh L'avete vista Che salto Ah era blu Caspita E come mai è diventata verde Amico mio Oh non tiene una sega Stamattina Come mai è verde? Oh però è bello Ah caspita E perché è verde? Devo riscaricarla? Vabbè la faccio un attimo con questa la gara Dopo la vado a scaricare Perché mi piace anche il verde Eh no poi non vorrei che poi dopo capisce Ma quindi io per far parte del team Tu per far parte del team Monster devi perdere Ah 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 Devi far vincere Marco Drums Games Ah 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 No scherzo raga Va bene va bene si può fare Ah 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 Mi fai sudare Mi fai sudare Monster Devi andare piano Devi andare piano Quando Quando corri con me Se no mi fai sudare Sono vecchio io Monster Eh 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 ma non dovete far vincere Ma eh 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 No Dovete Dovete far vincere Shard Eh 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 No nel senso farò parte del team Sì 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 Possiamo fare Possiamo fare amico mio Tu sei sempre presente Ci sto Ci sto Monster ci sto Eh eh Però Hai capito quello che ho detto Monster? La gerarchia La gerarchia Diciamo che l'ultima curva Monster La fai sempre un po' Tendente All'uscire fuori di pista Ok? Eh 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 E a perdere No vabbè Non esageriamo Che cosa stavo facendo io ragazzi? Perché ho preso la mano al telefono? Ah Boh Cioè io sto parlando con voi Ah sì è vero hai ragione La blu No allora usciamo raga Eh Teghera giù Sentiamo Morris Sentiamo il papà Maurizio Stupendo Stupendo Hai sentito Hai sentito Sharder? Hai sentito? Allora guarda calcola Non per vantarmi Se tutti i piloti fanno gli onesti Rimango e arrivo nei primi dieci Grande Dai 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 Ci sta Ci sta Ci sta Allora bisogna che mi trovi All'occhi allora Mi devi trovare Mandare la richiesta amico Ok? Quindi se me la mandi Adesso che siamo in live Io ti accetto E so chi sei Ok? Devi cercarmi come Marco Drums Games Ho il mio logo Vedete? Il drago Non fate arrabbiare il drago Ragazzi Non fatemi arrabbiare il drago Che poi sputa fiamme E mi crema i cappelli È successo l'altra volta Lui guarda qui Sputa fuoco E poi mi crema i cappelli Vedete che c'è i cappelli tagliati Domani lo inizio Grande Grande Ok Non so cosa ha scritto E Cos'è che stavo dicendo? Ah E purtroppo non ci sono Perché io abito da mia mamma Sì sì ma lo so Lo so Ma è tranquillo Monster Ma stai tranquillo Allora A me piace giocare Con la gente simpatica Che si comporta bene Che se anche uno Butta fuori l'altro Però da il passaggio Lo fa passare Capito? E mi piace così Quindi Monster È uno ok Sharder Io Kevin e Bragali Facciamo già parte del team racing Quindi Monster Probabilmente sarà uno Dei prossimi Loki Se vuoi Mi Ah ecco cosa ti stavo dicendo Loki Aggiungimi tra la lista amici Della Play Sono Marco Drums O Il Drago E il Il mondo Il mondo fatto di Little Big Planet Ok? Ma questa cosa Non è colpa mia Piuttosto Io ando anche solo a guardare Quando sono la mia mamma Grande Monster È così che ti voglio Per questo che mi piaci Per questo che mi piaci Amico mio No no Monster Sei un grande Sei un grande Basta Ah è vero Cazzarola Ma perché me l'ha scaricata verde? Oh raga Voi sapete perché me l'ha scaricata verde? Incredibile Si è baggato il verde col blu Ma Perciò spacca tutto Bravo bravo Così mi piace Così stiamo in lobby Quando vuoi entrare? Ok Allora Loki Ma il tuo nome è come il tuo Su Twitch Uguale identico? Marco Drums Games Si Fammi vedere che controllo Raga perché Non è che tanto mi ricordo Io sono Marco Drums Games Tutto attaccato Marco Drums Games Fammi vedere Ma no scusami Marco Drums E basta Il Games l'ho messo dopo Il Games l'ho messo su Twitch Non mi ricordavo più Bella lì raga Allora L'ho messo nella raccolta Marco Drums E basta C'è scritto lì sopra a destra A destra Dov'è a destra? Non lo vedo Non lo vedo Ah si Dove c'è il mio nome forse E dovrei spostare Il Ma io non c'ho voglia Spostare la telecamera Io Che non posso giocare con voi Mi diverto con le live Grande Frac Grandissimo Ma si ma ci divertiamo Ormai siamo diventati una famiglia Raga Ma chi se ne fa Prega Cioè Corriamo Grazie Non ho capito cosa ha scritto Allora Marco guarda Se abbiamo fatto Io e Che abbiamo fatto Giulia Ha regalato un abbonamento Ma no Ma sei fuori Dai Oh Loki Puoi avere Il tuo nome Sulla mia livrea Grazie alla Giulia E al Lord Madonna Madonna Giulia Grazie amica mia Grazie Lord Grazie per l'abbonamento E è andato All'amico All'amico Loki Magliette Le magliette del 2032 Andiamo calmi eh Perché Siamo calmi Le magliette costano un bordo No niente Non Assolutamente si Quando le farò nel 2047 Te le do due Due Ragazzi Ragazzi E non lo so Cosa devo fare io Sharder È verde Sharder Ci sei? Ma come fa il tuo cugino A finire i biglietti In un giorno? Grande il tuo cugino? Sì comunque raga Prova a riscaricarla E come faccio? Allora Facciamo così Nessuno che mi alza Lo sguardo Vedo 30 milioni Ah 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 È strano No grazie mille Non so come ringraziarti Però Dovrò pagare Perché io non posso Allora Per l'abbonamento Sì si deve pagare con Dall'applicazione Si compra l'abbonamento E E basta E Lo si compra Puoi fare il mensile Tre mesi Sei mesi Quattro mesi In base a quanti soldi Vuoi spese E questo serve per Aiutare I vostri streamer preferiti Quindi in questo caso a me Per poter fare le cose Per poter comprare i giochi Per comprare il volante Voglio comprare Il Come cazzo si chiama Il Fanatec DD Pro Quindi è un aiuto Allo streamer E E poi Chiaramente Dopo il mese Che ti ha regalato la Giulia E Ciao 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 Kiri Ciao ciao Dai dai Vieni dentro nel prossimo live Grande amico mio E Il mitico lord Che è il suo marito Dovrai farlo tu Capito Di tuo Però vabbè Tu il mese ce l'hai Ce l'hai Quindi la prossima livrea Sarai incluso È un regalo della Giulia Grazie Grazie Giulia Ciao Red Ha entrato anche Red ragazzi Grandissimo Red Bella Red Bella ragazzi Vedi L'hochi È una bellissima community La nostra Sarebbe bello un marito Vai 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 Giulia Che lo facciamo No ma te l'ha regalato lei Ha pagato lei A posto tuo L'hochi Ha pagato la Giulia A posto tuo Ma tu nei tag Hai scritto rilassato Eh sì effettivamente Una cazzata Non sono rilassato A me non sembra Tanto rilassato Hai capito L'hochi Te l'ha pagato lei Quindi per un mese Tu sei abbonato Il mio canale Grandissimo Quindi Ti metto dentro Nella livrea Nella prossima livrea Comunque macchina GR3 presa Grande Red Grande Red No no te l'abbiamo pagato io Esatto esatto Giulia Esatto Eh non aveva capito Chi doveva pagare Penso Allora prego Grande grande Bella ragazzi Un altro bel abbonamentino Stasera Grazie alla Giulia E Lord A favore del mitico L'hochi Che è entrato oggi Ha fatto l'abbonamento L'hochi devi fare un sacco Di pubblicità Il mio canale Tutti i tuoi amici Parenti Fai l'abbonamento Anche al cane al gatto Ciao Dottor Master Vieni a giocare con noi Amico mio Grandi ragazzi Allora Guarda Dottor Master Che cosa ha fatto Guarda che cosa ha fatto Sharder All'amico Morris E niente Sharder Non ti trovo Il mio nome L'hochi Marco Drums Cerca Marco Drums E basta Tutto in minuscolo L'hochi cerca Marco Drums Tutto in minuscolo Allora La livrea è bellissima Anche verde Quel verde dovrebbe essere azzurro Ragazzi Non riesco a capire Davvero Perché Ho un pesce rosso Eeeh Vediamo se riesco io Perché Adesso devo correre Tu me lo mandavi Io te lo accettavo Aspetta Giocatori L'hochi L'hochi Ma l'hochi come l'hochi L'ho L'hochi Quattro sette Io non ci vedo raga Sono vecchio Quattro sette zero sei Ok Adesso la rimetto Allora L'hochi Quattro sette Ringhia No Quattro sette Zero Cos'è L'hochi Mi ripeti Mi scrivi per piacere Che non riesco a reggerlo L'hochi Quattro sette Zero Otto Becker Andiamo C'è un pesce Secondo me non è un pesce Questo qua È un pesce nero L'hochi Quattro sette Zero Otto L'hochi Quattro sette Zero Otto No Te l'ho mandata io Ah ok Eccolo qua Grande Richiesta ricevuta Accetta Ok Se Perfetto L'hochi Quattro sette Zero Otto Adesso Quando Fetta che faccio il corso Perché se no Non so chi sei E Allora Facciamo così Quindi in teoria Adesso la dovrebbe scaricare Giusto E andiamo a fare una bella Una bella Una bella online Chi è che c'è per l'online Amici miei Chi vuole venire Grande l'hochi Ce la fai venire dentro Dottor master Viene a farti una corrida Chi è che c'è poi Che c'è Non riesco a vederlo Io ragazzi Da qua Sto Perdendo colpi Comunque bellissima Quando potrai Me ne farai una Certo dottor master Devi far parte Devi fare parte Io ci sono Grande red Entra dentro Devi far parte Del Marco drums Game racing team Però eh Io non ci sono Come hai detto prima No monster Ma stai dentro Vai tranquillo Almeno abbiamo possibilità Di vincere Sennò con te Una rottura Di coglione Eh bravissimo Bravissimo monster Oh ma che scherzo Le mie live sono così Dobbiamo scherzare Dobbiamo divertirci Tra dieci minuti Ok va bene Dottor master Va bene Ma che scherzo monster Devi correre Perché io voglio gente Che è capace Non è che voglio perdere Poi quando andiamo online Mi raccomando Seguite il canale Grande Giulie Però fa ridere Quando faccio così Raga E gli dico a monster Che deve andare piano Almeno io mi diverto Un casino Allora L'occhio Aspetta che entro io Dentro nella lobby Di Sharder Che c'è Sharder E il suo mega cugino E poi puoi entrare Da me Ok Quando andate Nella stanza Degli amici Entrate dentro Ok raga La macchina Si sceglie Se possibile La stessa O con gli stessi pipì Non gareggiate più Marco Ma le gare gr2 Le gr2 L'abbiamo fatta ieri sera Amico mio L'occhio Bravo Quello lì è bellissimo Il drago Non fate arrabbiare il drago Raga Non fate arrabbiare il drago Il drago si incazza E questa Amico mio La 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 NSX Dai ragazzi Dai ragazzi Dai Chi è che c'è dentro Falco nero Grande falco Falco nero E il cugino Di Sharder Ragazzi Sharder Dimmi tu E dentro Vai Entra Dovresti trovarmi Tra gli amici Se non mi trovi Devi riavviare Si pensavo che Cambiavate Con le gr Cioè non ho capito Scusa Vuoi Rispetto Rispetto Per ieri Mi ha Aspettato Eh dai Dai ci sta Va bene Va bene Non c'è problema Non c'è problema Pad Non abbiamo problemi L'occhio Allora Ce l'hai la gr2 Se no Facciamo con le gr3 Dai Allora L'occhio Ora guardo Ok Vedi se ce l'hai Se no facciamo con le gr3 Non è un problema E che io sto Ora ragazzi Finito le garettine online Amici miei Andiamo a comprare Un sacco di macchine Perché ho 30 milioni 30 milioni Ogni volta Che dico 30 milioni L'amico Monster fa Esatto Dottore Dottoretto Mod Comunque Sarai io Cugino Ah sei tu Red Ah scusami Perché c'è un nome diverso Su Su Twitch Grande Grande Dai dai Vieni vieni Corri corri Allora Grande Red Grandissimo Così si fa ragazzi Si entra in live Così possiamo essere In contatto anche Con i nostri amici in chat E poi si corre Anch'io sono da pad E lo batto Pensa se avessi il volante Amico mio Stai calmo Perché non ti ho ancora Fatto la livrea Eh Eh raga Amico mio Stai calmo Oh Frank Torna fra 5 minuti Sei minuti Già mi arrabbio Grande Lord Amico mio Amico mio Sei stanco Penso che Lord È stanco Ragazzi Con i primi caldi Arrivano anche Tutte le varie Stanchezze Grande Lord Ringrazialo Giulie Ringrazio davvero Lord Il mio amico Lord Alessandro Eh lo so Lo so Amica Anch'io sinceramente Ti dico la verità Però poi Mi gaso Quando facciamo la live E Diciamo che Mi passa un po' La stanchezza Dopo quando Finisco alle 11 Ragazzi che vado a letto Mi sembro un vecchio Di 97 anni Che mi devo tirare su A stenti A volte mi faccio tirare su Da Carla Oh ragazzi Carla Non è che non corre più È perché sta correndo Sta andando a camminare Con Olivia Che è il mio cagnolino Marco tu però Mi aiuti su quella cosa Ok È certo È certo Amica mia Con tutti i da buone Per adesso Solo la Subaru Allora dai Scusa 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 Sono in grida di partenza Perfetto Scusate ragazzi Se c'è la Subaru Andiamo con le GR3 Ok Allora Vediamo c'è il mitico Sharder Che sta girando C'è il mitico Falco nero Che è Red Ragazzi Perché ha un nome diverso Red Mi stavi fregando Vediamo Vediamo Red Bella Bella La Corvée Come faccio il tifo Marco Bravo Amico mio Bisognerebbe fare un pronostico Qualcosa del genere Come facciamo A farlo Tu Giulio Non sei sul computer Come si fa a fare il pronostico Non me lo ricordo più Il pronostico è un cazzino Però è figo Perché potete spendere I vostri mitico Tra l'altro Loki Avrei visto Che la moneta C'è Esiste La moneta Il mitico Eh sì Lo sapevo Giulio Esiste I mitico Che sono Praticamente La moneta Del futuro Tra un po' I bitcoin I dollari Non varranno più niente E ci sarà Solo Il mitico Il mitico C'era una moneta Del futuro Che è quella Creata da Marco Branche Oh Eccolo Loki Eccolo Speed Dai che ci si diverte Raga Marco guardami un attimo Fanno un po' Di Dai che ti guardo Vai 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 Che sei fermo Sul traguardo Vai pure Loki Corri 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 Amico Sfreccia Ecco che guardiamo Il grandissimo Loki Grandissimo Che ha fatto l'abbonamento Grazie Loki Grazie a Giulia E grazie a Lord Grandissimi Tutti e tre Ragazzi Oh Che bella Rustiz Ah Con l'alfa Bella Bella Mi piace Amico mio Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace di brutto Mi piace questa Questa mega Rustiz 95 Con l'alfettona Vediamo poi Qui c'è C'è Red C'è il mitico Sharder Si 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 ci sta Speed Eccolo qua Speed Il Dottor Master E che voi Cambiate i nomi Ragazzi Quando diamo Chi vince Marco Falconello Loki Speed Esatto esatto Chi vince Chi vince Ti posso dire chi vince Monster Vince l'amicizia Vincono tutti Vincono tutti Quando Quando giochiamo Insieme ragazzi Però se vinco io Vinco io Se perdo Vince l'amicizia Capito? Allora Ognuno bravo a far qualcosa C'è chi è bravo A dare nel ghiaietto C'è chi tira via La ghiaietta Dalla strada C'è chi taglia l'erba Un po' tutto Un po' Ciao amici Amici di Twitch Benvenuti ragazzi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Amici Dai dai che ci facciamo C'è chi batte Marco L'amico Charlerino Vuol subito fare Una mega Una mega Bagare Guarda l'amico Charlerino Oh raga, oh raga, oh raga, oh raga, sembra che non sono capace, scusate, 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 ripartiamo, 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 che devo, dopo la macchina schifosa che ho comprato all'inizio, dai dai dai, concentriamoci, deconcentration days. Allora, mi hanno messo la scivolina, vai vai Loki, mi aspetti, va bene, va bene, aspetta, grazie, 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 aspetta che devo prendermi un po' la mano, perché mi sta scivolando via un po', vai, vai che forse l'ho preso la manina, arrivo eh? Grande, frac, dai che stiamo facendo il giro veloce, frac, vai 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 Loki, 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 concordi con Giulia, bravo, 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 mostra. Ciao Kevin, grandissimo, tu non giochi Kevin stasera vero? Loki a secco. Grande Kevin! Oh oh, ha fatto uno scattino raga, buona sera. Ok, perfetto. C'è una mega, una mega lobby stasera Kevin. Caspita, sono troppo abituato alla GR2, che ormai è subarozzo qui. Faccio fatica a tenerlo in strada, sai Kevin? Ti riprenderò prima o poi. Vai tranquillo che mi sto steccando come un... non so come. Eccomi qui! Tiene... eh cacchio! Andiamo, 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 vai Loki, vai Loki! Sì, anche secondo me, amico mio, però avendo provato la GR2, che tiene un botto di più, faccio un po' fatica a riabituarmi... Sì, sì, la Livrea Cars è bellissima. Sì, sì, è bellissima raga. Grande Lotti! Nooo, Giulie! Adesso che facciamo la gara! Scusa, Falco, ho sbagliato. Ah, grande, grande, grande. Ah, sta arrivando anche Falco, eh! Perché? Ah, è più lenta? Come non si vede bene? Perché non si vede bene, ragazzi? Aspettate, sto vedendo... Non si vede bene, raga? Eh, non so che cosa dirvi, ragazzi. Mi sa che devo... Ah, ok. Eh, non lo so, sinceramente, Kevin... Ok, perfetto. Allora, si vede che ogni tanto qualcuno va via un po' la connessione. Perché credo proprio, ragazzi, che prima o poi dovrò farmi una connessione tutta mia, visto che qui, grazie alle linee fantasmicrosculotiche... Fa tutto schifo le linee qua dove abito io. Bisogna che... Mi devo fare una linea dedicata a me. Oh, stesso errore di Falco, grande, Red! Incredibile, ragazzi. Dai, devo... Devo riabituarmi qua, perché... Ciao, Giulie! Scusa, 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 Falco, scusa, Falco! Comunque, forse ho fixato il problema con la play. Ah, ok, perfetto, perfetto. Scusa, Falco, eh, scusami, Red! Non sono riuscito a fare un giro buono, raga! Grande, Falco! 1'33'6'8'4'4! Bella lì! Ma, eh... L'occhio dite che non ha la macchina che viaggia, voi che la potete vedere? Perché dicevi così prima, Monster? Ciao, ciao, Giulia! Grazie mille dell'abbonamento, grazie mille di essere stata con noi, sei sempre mitica e ci fa sempre un sacco di piacere quando ci sei, perché le chat sono fighissime quando ci sei tu. Grazie, moderatrice. Grazie, Giulia. Grazie, Lord, eh. Grazie, ragazzi. Dai, ci vediamo magari domani sera. Poi vediamo, eh, col mitico Lord. Ah, ok. Perfetto, perfetto. Cacchio, raga! Non riesco a farne una, ma cosa succede stasera? Buonanotte, buonanotte, amica mia. Ciao, grazie mille, ti vogliamo bene che noi. Mitica, mitica, mitica. Io e Carla e Cagnolini e vari. Ciao, Giulia. Grande niente. Sportività. Oh, è una figata, è una figata, amico mio. Il grandissimo... Eh, perché sto leggendo, ragazzi. Devo leggere un po' meno perché vado a sbattere. Eh, vai Loki, vai Loki, ti prendo, ti prendo Loki. Adesso ho cambiato macchina. Sembra che va molto più veloce, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Iscrivetevi al canale, eh, grandissimi. Grazie mille. Stiamo facendo una mega live. Loki si è iscritto stasera, ha fatto un abbonamento, verrà aggiunto sulla mia prossima livrea. Quindi ragazzi, se volete il vostro nome di Twitch sulla mia prossima livrea della prossima macchina, eh, fatemi un bel abbono e amicino, eh, grandissimi. Allora, non sono più capace di guidare. Un attimino solo, un attimino solo. Ah, la, 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 la. E sono le gomme morbide. Abbiamo proprio una situazione incredibile, ragazzi. Allora, andiamo a vedere i nostri amici. C'è Sharder. Vediamo un po' gli altri, eh. Dopo andiamo a fare una. Mi sono abituato troppo bene con le GR2, ragazzi. Faccio una fatica. C'è il grandissimo Dr. Master. Speed. Bella. Ma dai, mamma di Monster, grandissima mamma di Monster. Baldo, grandissimo Baldo. Bella questa Red Bull. Ci sta di brutto. Girello. Questa non ti conosco. Sei iscritto al canale? Amorini. Amorini, Amorini, Amorini è il mitico... Siiii... È Andrea. Grandissimo Andrea. Si vuoi? Avvio che poi mio figino deve andare. Va bene, va bene. Avvia, via, via. Dai, dai, dai. Daniele. Grande Daniele. Go, go, raga. Go, go, go. Puoi andare pure? Ah, ok. se vuoi l'abbonamento è esagerato grandissimo grandissimo grazie dai 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 di la mamma di entrare anche lei nel live che si diverte la facciamo divertire la tua mamma così vedrai che te lo fa l'abbonamento comunque nel team sei dentro ok amico mio quindi stai tranquillo che adesso dobbiamo però avere il tempo dell'amico shatter che ha un sacco di lavoro da fare un sacco di libret poverino e deve anche poi giocare non è che può fare libretà tutto spiano il caricamento devono fare il caricamento oh caspita sei serio c'è qualcuno che non grande è vero è vero monster grandissimo ma si ma poi giochiamo che insieme ci schiaffiamo vediamo schiaffiamo bello bello forse forse adesso riusciamo a cavare anche un ragno dal buco tante verifica madonna ma vi massacrano proprio queste verifiche sti valordi è proprio la fine della scuola ok fra che grandissimo buonanotte si è vero è vero monster sta bellissimo c'è qualcuno che non ha e io non posso sentire gli altri bisogna scriverlo nella chat note fracca è vero è vero è vero allora come si fa a scrivere in chat grande amorini ok bravo scrivi in chat li mettete su che la gara inizia non si fa a scrivere in chat ma il tracciato guarda impostazione evento impostazioni che non so come si fa a scrivere la chat inserisci testo amici mettete partecipa comincia ma si ma l'importante divertirsi che te frega lo chi non c'è problema non c'è problema importante che poi quando chiudiamo la live ti sei divertito ti è piaciuto stare con noi e questo è l'importante chi arriva primo che arriva ultimo frega nulla ok è partita adesso charder ciao ragazzi ciao grandissimi sono tutti amici e facciamo una mega gara il vero pilota non la fa la velocità ma la bravura del pilota forza uomo grande ma certo lochi ma che te ne frega l'importante è divertirsi io sono ottavo guarda qui come vanno gli altri quando l'evento avrà inizio scenderà automaticamente in pista non non parte charder ciao mi dico andrea ascolta la cosa andrea ho visto che siete entrati nella partita e siete in live amico mio entrate nella live e fai scrivere tutti i tuoi amici però per farla partire devi dire ai tuoi amici di mettere su partecipa perché non ci sta facendo fare inizio gara pensa che hanno una macchina più veloce della tua perché hanno paura di te ah 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 è vero è vero è vero ma sono tutti almeno con la gr3 si ne? si spero di si allora 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 beh beh facciamo così andiamo a tracciato perché a sto punto sto vedendo che non parte almeno ci facciamo un po' un po' di un po' di giri allora ragazzi rimanete poi nella live che andiamo a comprare macchine allora stasera mia moglie ha fatto i wuster a rondelle con un brodino buonissimo non è proprio wuster wuster da hot dog e quelli del salumiere che li fa lui poi tra un po' andrà in pensione siamo veramente in baria delle case e si 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 con l'insalata i pomodorini e pane vabbè e risotto e zafferano buono mi piace un po' mi piace il risotto a me tutti i risotti mi piacciono risotto e pasta io li amo sinceramente ciao ragazzi benvenuti il salame è top allora ci sta col salamozzo ci sta ci sta cacciatorino caspita si 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 la tua pista preferita allora questa è una delle piste preferite sinceramente dopo mi piace molto monza e il lago maggiore diciamo che sono quelle che mi piacciono di più però ti dico la verità che mi trovo bene su un bel po' anche a red bull racing si sinceramente a dire proprio la mia preferita preferita a sto punto la mia preferita è monza però quella che dove vado dove vado un po' più veloce rispetto che le altre è questa qua questa qui è quella che ho vinto di più mi piace proprio come è fatta la pista però ti dico che ho corso tutto ieri con la gr2 si 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 monza è finito monza ragazzi monza sono stati sei anni in fila si si sono tutte belle tranne qualcuna che davvero non ce la faccio starci lì dentro tipo quella che tipo su e dual satia lì non so cos'è che c'è tutta la cosa indicesa lì non quella la odio e ho fatto esatto esatto quella lì la odio proprio non mi piace gente un po' e praticamente ho fatto cinque anni andare a vedere allora ho visto una formula 1 quando ancora spaccavano le orecchie era una cosa incredibile però la formula 1 c'è il posto non è un casino da vederlo costa un voto invece ho visto per quattro anni in fila la superbike e vi devo dirla quando c'è la trova i belis e vi dico la verità ragazzi era veramente bello perché con la superbike puoi andare tranquillamente dove vuoi in tutto tracciato e ce lo siamo girati tutti e stasera e quindi monza la conosco bene poi ha una un'oretta un'oretta e qualcosa da casa mia 40 minuti da milano allora se ce l'hai la brz la subaru questa che stiamo usando tutti così almeno shard era già la livrea fatta e e poi quando farei parte del team allora adesso ti mettiamo il nome sulla prossima quando farei parte del team almeno corriamo con la biazzetta se no una simile cioè cosa è successo baldo caspita sì sì 450 l'occhio no davvero porca miseria monster orca miseria che visione che ha avuto tu qua qua ha visto il tipo allora mezzo sguaiato poverino ma se vuoi sì dai tanto vedo che non sta partendo se hai i soldini è anche per mettere per mettere le gomme morbide ce li hai i soldini caspita che roba ok vai 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 tranquillo allora dai entra oh aspetta aspetta no è la gara la gara rocky non uscire è uscito l'occhio e caspita monster dai che iniziamo dai che iniziamo ragazzi l'occhi c'è non ho visto non ho visto no si è uscito e vabbè dai la prossima la prossima amico mio intanto vabbè guarda la gara e vai a comprarla eh porca miseria che peccato no dai porca vacca no ultimo dai muoviti ah l'occhi sono andato dritto non ci credo oh speed speed dai 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 ragazzi sei giri dai che corriamo corriamo seri dai l'occhi fai monster l'occhi fatte fatte il tifo per noi ciao lucas amico mio mega garozzo ragazzi cazzo non tiene raga sta merda grande grande dai che andiamo a prendere baldo no girello ciao amici amiche di twitch mi raccomando iscrivetevi al canale grandissimi porca loca sta pista grande grande monster cacchio è come se non so più bravo 2021 e lei e lei e lei e lei cazzo ma perchè scivola così tanto oh ragazzi non riesco a capire come mai scivola ok che sono abituato alla ns x gr2 però porca loca grande 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 monster dai che non lo so se ce la facciamo sono avanti parecchio e siamo già al terzo giro e la macchina mi scivola tanta roba allora balù cacchio l'occhi non dovevi uscire amico mio allora balù cacchio l'occhi non dovevi uscire amico mio se è che andiamo a prendere Baloo devo solo abituarmi raga perché cambio tantissime macchine e una è veramente diversa dall'altra raga porca uuuh falco grande sharder sto sudando raga è un po' come ieri dai quant'è 9,1 siamo al quarto giro grande 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 ciao amici amiche di Twitch benvenuti ragazzi e ragazze iscrivetevi al canale grandi eh grandissimi dai dai gas 8,7 dai che lo sto prendendo è il mio record di pista raga ciao amici amiche di Twitch benvenuti ragazzi iscrivetevi al canale se vi piacciono le mega gare anche in amicizia ragazzi e online eh siamo tutti amici di Twitch questa sera allora con la allora con la NSX riesco a farla in quinta decelerando solo un pelino un pelino un pelino a volte a volte non ti rispondo a volte non ti rispondo monster o ragazzi se scrivete in chat scrivete in chat così vi posso salutare in live amici e amiche a volte non vi rispondo ragazzi perché sono proprio in fase di curva o in una fase un po' allora io Daniele non credo di riuscire ad andare a prenderlo anche se ci sono due giri e ho fatto il tempo migliore però no devi andare quando la faremo la deve fare Sharder ci sarà la ci sarà la condivisione basta che vai è presente sul menu principale quello con il cerchiorino già adesso puoi mettere per dire la mia livrea o quella di Sharder o quella o le mie livree già puoi metterle se ti fa piacere non ha senso ma se ti fa piacere puoi da farlo così mi fai pubblicità al canale ok vetrina cerca esatto fai tra gli amici così seguiti così ti trovi tutte le livree mie e e te le puoi c'è scarica no non c'è scarica c'è vabbè dopo se aspetti un attimo finita la gara te lo faccio vedere te lo faccio vedere Loki tranquillo tanto quando poi dovrai farlo se vuoi bettala sulla BRZ con la mia ti faccio vedere come si fa aspetta che finiamo la gara ah grande grande si è una stupidata dopo per poterla mettere però devi andare sul simbolo sai quella del dove cambi i bravo bravo monster quando sei che la vuoi mettere sulla macchina lì la scarichi ok la condividi quando però devi andare a installarla devi andare a metterla è presente dove c'è quello che cambi l'olio che cambi le livree ecco devi andare sull'ultimo carica e fai quella che hai dentro vabbè dopo dopo te lo faccio vedere oh Daniele 1.32 ha fatto Daniele si è andato dentro eh ah cacchio ha superato Sharder Daniele bravo monster un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più Grande Sharder, bravo Sharder, prego Morimino, mi dai l'acqua frizzante il tesoro, per piacere? Grande Sharder, bravo, bravo Daniele, grande Baldo, grande Monster, grazie Morimino, bella Lispi, Damorini, Rello, Red, Bado, grande Sharder, l'ultima curva, grandissimo, bella lì raga, è stata veramente una bella gara, una bella gara, aspettiamo che finisca, bella, 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 bella gara ragazzi Ok ok ok, allora aspetta un attimo che non so se la vogliamo fare sulla stessa pista, ma come mai non finisce? Bella lì raga, grande, bella, 30 milioni Eh, dottor Master, per fare la GR2 dobbiamo cambiare Aspetta eh Bella lì, bella lì, ok, ok, raga Noi usciamo Ok Sì sì Aspetta no, aspetta entrare Ok Perfetto Massimo Allora, bella lì ragazzi, usciamo, ho salutato tutti Allora, ne facciamo un'altra, in un'altra pista, ok amici? Un secondo solo Allora, lo faccio io, allora, aspetta Ok Allora Allora, numero di partecipanti Allora, facciamo, siamo in quattro, giusto? La pista La pista, la pista, amici miei Qual era l'altra bella che abbiamo fatto? Quell'altra che abbiamo fatto? Che mi è piaciuta? Vabbè, Spa è proprio tosta Metti un po' di più Perché noi siamo in tre No, c'è anche Ciao Roby Traial l'abbiamo fatto adesso, amica mia Benvenuta, ciao, ciao, amica mia Dai, facciamo Red Bull Racing Dai, Red Bull, Red Bull, Red Bull Allora, facciamo sei giri Ah, grande Roby Allora, siamo io, te, Loki e Dottor Master Quindi siamo in quattro, ok ragazzi, giusto? Giusto ragazzi? Grande Roby Ah, grandissimo, amica mia Bella Monster Loki, sì Sharder, Marco Drano Tuo cugino non c'è, Sharder, vero? Sharder, tuo cugino è andato via, vero? Eh, c'è Falco? C'è ancora? Perché mi hai detto che doveva andare via? Ce la devo mettere un partecipante in più, eh? Ok, perfetto E cosa vuol dire di vieto di elaborazione? No, ma no, non fa niente Allora, Red Io ci sono Ok, allora facciamo cinque Eh, mi ero perso ragazzi Per quello che vi chiedo, eh Allora, sto mi tanto Guardo Un po' di sonno Vi guardo un po' prima di dormire Grazie Grande Loki Grazie Roby Sei gentilissima Grandissima, grandissima Ti facciamo dormire O ti facciamo svegliare Perché quando io sono in certe situazioni Roby mi metto anche un po' a urlicchiare, eh? Allora, cinque amici Ok ragazzi Red Bull Racing Sto creando la pista Grandissima Roby Dopo, Roby se sei ancora Tra di noi Che non sei stanche Che sei già letto Ti faccio vedere la mega livrea Che ha fatto Sharder All'amico All'amico Maurizio Morris Andrea, eri tu vero Amorini? Ho sbagliato persona Perché magari ti sto mandando i messaggi Non eri tu Ok Ho già mandato un messaggio Marco c'è Maurizio Gli è piaciuta tantissimo Allora Amico Morris E tuo papà Ti abbiamo Io e l'amico Sharder Bellissimo Abbiamo fatto La livrea Per te Gli è il mio Morris E questo lo fa Su Gran Turismo Adesso ci siete anche voi Guarda che bella Ti piace? Grande Morris Adesso me la mando anche a te Maurizio Amico mio Falco Nero È amico di mio cugino Che bordello Allora Falco Nero è amico di tuo cugino E l'altro chi era? Che casino Allora ragazzi Se non vi fa entrare da me La deve fare Sharder Non vi fa entrare amici miei Io non ho capito la motivazione Ciao amore mio C'è un sacco di gente Vai che c'è la Roby In assoluta Ciao Sharder Ciao a tutti Allora aspetta che la fa Sharder Sharder fa la tua amico mio Che paranoia Ciao Roby Senti laggiù Allora Na no la ricide però Sharder No 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 Quando entro io poi entri da tu Sharder fa la Numero aperto Che sono in tre Loro vogliono entrare ancora Dai Tanto che Non è importante e si scrive così? Ok, Sharder, fa la senza numero allora, facciamo entrare tutti come abbiamo fatto adesso, tanto ci divertiamo di più Ok, ok, aspettiamo ragazzi che il nostro amico Sharder crea la lobby a Red Bull Ring L'hai fatta? Oh, eccola qua, eccola qua, adesso Loki dovresti vederla, ciao Olivia, vieni amore Ollie, vieni patata Allora, se riesco a entrare, amici miei, quando io sono dentro potete vederla, eh Sinceramente non lo so neanche io, l'abbiamo fatta io e mia moglie ma non... richiesta eroe Devo andare a vedere... sondaggio... aspetta, affiliato... ricompense, dovrebbe essere tra ricompense, eh Emote... allora... love mitico, lol, love, gg, hype, dragon, ciao... mille punti... grandi, mitici... Allora, eh... Allora, credo che sono quelle impostate, sono quelle automatiche perché non vedo la... la spunta qui per poter... per poterle cambiare, Loki Aspetta che ragazzi ha fatto problemi, vediamo se riusciamo ad entrare... di solito la seconda volta a volte mi fa entrare, però se abbiamo problemi... Ok... Oh... quando l'online fa così, amici miei... che balle... ahaha... ciao amici amici di Twitch... Niente... ciao Kay... grande Kay... come stai amico mio? No... stiamo provando a fare una mega giocata la seconda gara... online... ma non funziona, non funziona, non funziona... Sharder... amico mio, se per caso non riesco ad entrare ancora, puoi rifare la stanza per piacere? Grande... grande amico mio, grazie perché non riusciamo ad entrare... e io credo che non c'entra niente le connessioni, ma è proprio una questione di server... Loro, o sono pieni, o non lo so... ragazzi fanno schifo... boh non lo so... E' un gioco talmente bello... che poi dopo fanno queste cavolate dei server... Ho iniziato a giocare adesso GT7... grazie... grande Kay... bravissimo... Dai... stai facendo i cosi? Ok... Allora... il mitico Andrea Amorini va a letto... quindi non... non ci sono loro tre... Eh... diciamo che non me l'aspettavo così bello... Ah... ah... grande Kay... eh si Kay... Hai ragione... hai ragione... hai ragione... Sharder, lo puoi rifare per cortesia, amico mio? Perché non riesco ad entrare... Allora... graficamente è bello... Le piste... il gameplay... la differenza tra le macchine... si sente... è tanta... La modalità è completamente diversa... si è vero... E... tra una macchina e l'altra senti proprio una gran diversità... Come si comporta... come tiene le curve... eh... la grafica proprio di tutte le vetture... La possibilità di mettere le livree... eh... è veramente... è veramente... tanta roba... Sì... sì... il sound... bravo... bravo... esatto... ogni macchina è diversa... eh... si... Sì... sì... hai ragione... hai ragione Kay... Anch'io lo trovo veramente... veramente eh... tanto bello... tanto bello... Infatti ci sto giocando di brutto e guarda infatti i crediti... Ah ah... 30 million... Sì... 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 è un capolavoro... bravo... Allora... diciamo che tutto poi è eh... come GT Sport ragazzi... Poi metteranno piste... metteranno macchine... Metteranno a posto i problemi che ci sono... Metteranno magari a posto i problemi dell'online... eh... Eh... e tante tante altre cose... no raga... Perché comunque... eh... bisogna... Oh... bravissimo... ha cambiato il nome... Io lo vedo solo come un miglioramento di cittismo... Mmm... scioppone... ahahah... Allora... no... che scioppone... oh... Qui... oh ragazzi entrate... entrate... entratemi... Ma che scioppone... oh... non ho speso una lira io... Noi farmiamo... farmiamo tutti... Non di più... Ma... Sinceramente io al GT Sport non ci ho giocato così tanto ragazzi... Quindi... io... io lo vedo veramente come dice Key... Sinceramente... vi dico la verità... sì... Beh... magari proprio un'altra... un'altra... un'altra roba... completamente no... Però... però è tanta roba... Io... io ho trovato una gran bella differenza... in positivo... Dopo... Mi hai ricordato la pista di Londra con la Stratagg 26... Che bella... manca quella pista... beh... ma le metteranno credo... Allora... diciamo che tutte quelle vecchie... le mettono dentro eh... Beh... certo... 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 porca... longa... Diciamo... che... io sul mio Sony... Mica la pista a Londra... Eh... non lo so... Non lo so... io credo che le metteranno dentro perché l'hanno già detto che devono sistemare un sacco di roba... Comunque... per quanto riguarda lo scioppone ragazzi... No... bisogna... farmare... Allora... chei... o chi a chi ha detto scioppone... Io ho fatto un video su YouTube... sul mio canale YouTube... che è... anche tu Loki eh... se... se ti vuoi iscrivere al mio canale YouTube... E' Marco Drums Games anche su YouTube... Ci sono tutti i video registrati... tutte le live che facciamo sono pubblicate... quindi... Dopo potrai... vedere le tue live... sia su Twitch... e anche su YouTube... Eh... Loki... ti le fai vedere ai tuoi amici... Che hai il corso... Oh... eh... grande Speed... mi ha sverniciato Speed... Eh... 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 Speedino mi ha sverniciato ragazzi... Mentre stavo parlando... mi ha proprio sverniciato grande... Non me l'aspettavo che mi passava così... Allora... io questo qui... di solito... ci correvo con la GR2... Ieri sera non facevo queste cose strane... ecco... Vieni amore mio... Eh... no... non mi devi portare via il joystick... Mi ha quasi staccato l'orecchio... Eh... eh... E' un po' sposta prima di... Mi ha quasi staccato l'orecchio... Ciao ragazzi... ciao ragazze... Benvenuti... e benvenuti al canale... Eh... no... ti stavo dicendo... Prima che mi staccassero l'orecchio mia moglie... Che... Ecco... ecco... vieni Loki... Entra... entra... Amico mio... Che praticamente Loki... Ha un canale YouTube... Uguale... Anche vabbè... YouTube... Twitter... Instagram... TikTok... Twitch... E tutto quanto... C'è la Roby... Ecco la Roby... È arrivata Carla... Sì sì... Ok... E... E... E su YouTube... Ci sono tutti i video... Per poter farmare con... La... Tomahawk... Ok... Farmare vuol dire... Correre con quella macchina lì... Che si fa velocemente... E si beccano 850 mila crediti... Facilmente... Per quello che vedete che ho 30 milioni... Non ho... Speso una lira... Qui farmano anche mia moglie... Di pomeriggio... E il grandissimo Zane Boy... Che è mio figlio Leonardo... Esatto... Dai... Facciamo un giro veloce... Siamo Red Bull Racing... Siamo... Speed... Che è... Dottor Master... Shard... Red... E adesso dovrebbe entrare anche Loki... Che è un nuovo... Ragazzo che si è abbonato stasera... È... Grandissimo... E ha fatto anche la buon amica... Si... L'ha fatto la Giulia e Lord... Però... L'ha fatto lui... Quindi... È suo... Grande Giulia e grande Lord... Noiprochen... Vai... Troppa... Adesso... Oh... Eh... Certo? Ciao amici... Amici di Twitch... come state ragazzi ragazze dai che ci facciamo le ultime corsette io l'occhio non lo vedo dentro sei entrato l'occhio? ti fa entrare? ah ok perfetto e perché non ti vedevo là? red bull quella bella salitone ciao zan e boy grandissimo grazie per il farming oggi amore mio zan e boy ragazzi è mio figlio grande 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 come è andata la corsettina in bicicletta stasera ahahahah 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 ah ah ecco zan e sta salutato ciao avvia via ragazzi via via ciao zan eh amico mio bella lì eh ragazzi ti vuoi mia moglie eh Loki dai dai avvia via Marco a dormire domani mi aspetta ah ok allora la compro blu la compro blu eh ti sta salutando Monster ciao Monster buonanotte buona scuola grazie di essere stato con noi adesso ci facciamo la gara Shard la fa partire ci facciamo una garetta e andiamo anche tutti noi a letto a dormire eh mi da il problema di prima oh porca loca allora è Loki Loki eh che non ci fa partire la gara eh Falco Nero e Loki sono così e Loki è uscito vedi buona continuazione ci sentiamo domani grazie Monster ciao ciao amico mio buonanotte saluta la mamma eh ciao ciao e si rientra Loki a me da problema anche Falco ragazzi eh eh Red Bull ma esiste? eh eh si la pista Red Bull Spielberg Marco Malapi ok Loki sta entrando ciao ci sei domani si 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 domani siamo online hai fatto ho fatto la livrea di Morris adesso te la faccio vedere amore mio uh si eh c'era il piccolo Morris che si fa Leo per giocare eh però Leo ha scritto eravamo fuori ah abbiamo fatto cambio cioè dobbiamo partire di cate e mezzo perché sennò rientriamo troppo tardi eh eh si ci sono Loki ok sei dentro però non ci fa partire non ci fa partire la gara ragazzi avete messo su eh questo è un problema eh questo è un problema ma raga ma speed la GTR è un'altra è una GR3 falco abbandonato eh ragazzi non va bene l'online vedete che è un casino eh eh non lo so vedi vedi la mia live Loki vedi che il tuo nome qui sta tipo lampeggiando in continuo e anche quello di di mitico falco non riesco a capire perché prima ci ha fatto giocare e invece adesso no compriamo macchine? eh si sinceramente sinceramente ragazzi io comprerò i macchine sapete? eh allora ragazzi fatela voi scusatemi ma esco compriamo macchine un quarto d'ora andiamo a letto quindi se riuscite che sono uscito io e vi fa fare la gara fate la gara ok? fate la vostra bella garetta se no ragazzi eh purtroppo non non so che cosa dirvi non funzionano i server di sto gran turismo e allora visto che abbiamo fatto un po' di soldi andiamo a comprare la gara scusatemi giochiamo domani sera giochiamo domani proviamo a vedere se riusciamo a giocare domani sera insieme purtroppo a volte ragazzi ci sono questi problemi di linea e non ci si può fare nulla credo proprio che non ci si può fare nulla io al massimo domani ok adesso va boh non lo so eh vedi allora era un problema mio che ne so Shardel vabbè fatevi la garetta dai allora vediamo un attimo garage guarda amore ti faccio vedere la macchina di Shardel che ha fatto a Morris grazie a vittima si si l'ho già fatto vedere allora aspetta un attimo perché a questo punto Shardel mi ha detto che c'era buggato ok allora la caspita adesso andare a beccarsi allora no facciamo così allora no allora andiamo a cambiare il colore perché il mitico Shardel ha detto che probabilmente è il colore verde andiamo a metterlo blu ma perché questo tipo non c'è normale cacchiarola ok blu un bel blu madonna ragazzi quanti colori ci sono quanti colori ci sono allora mettiamo la macchina blu ok allora allora io non ho capito perché la macchina eh vedi eh vedi ah lascia la parte caspita i veri vedi vedi che lascia la parte verde perché è un bug e questa è una lì va benissimo quello ok perfetto perfetto così azzura guarda che bella eh wow guarda che ha messo il pad eh ci ha messo il pad invece della M maurizio 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 scusa non volevo guarda che roba eh maurizio lui è grande è grande bellissimo è cuoricino invece il suo papà mi è piaciuto stupendo stupendo condivisioni quindi poi quando ti collegherai puoi scaricare la tua la tua macchina la tua livrea fighissima ah ah grande maurizio bellissimo eh davvero un regalo speciale a un amico speciale grazie maurizio sei un mito è grande moris anche raga devo giocare con lui devo giocare con i campioni maurizio devo giocare con moris guarda che bella di fianco spettacolo davvero ok salviamo eh non lo so ma non mi sembra di averla vista oh salviamola è vero è vero era un bug era un bug aveva ragione un amico vuoi applicarlo certo che devi applicarlo testino ok perfetta bellissimo attendere adesso la scarica e la installa sulla vettura ok 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 dai andiamo a comprare macchine nell'ultimo dieci minuti in quattro d'ora e poi ci salutiamo ci vediamo domani sera allora subito 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 andiamo in auto storiche vediamo che cosa è successo guarda cosa ha comprato questa jaguar type coupé visto che bellina ok le abbiamo tutte le abbiamo tutte allora andiamo un attimo a vedere che cosa ci manca ragazzi ciao amici e amiche di twitch ciao 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 mi raccomando iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritte andiamo a comprare macchine perché perché a me piace allora vediamo tra le ford ragazzi vi faccio vedere anche i mezzi non andiamo troppo veloce se no queste qui che vedete ottenuta lì sul lato di fianco a destra in basso col prezzo col librettino blu vuol dire che le ho già comprate ah scusa faccio ciao amici e amiche di twitch ok ford tutti eh amore mio noi siamo dobbiamo averle tutte tutte la camaro la corvette la camaro zl1 ti piace la camaro eh si però oh questa bella corvettina di che colore la compriamo dai scegli il colore bianca scegliete il colore ragazzi grigia nera blu gialla non è male arancione rossa e bordeaux è bruttissima gialla o arancione arancione non ce l'ha ok non lo so però compriamo l'arancione ah ok e quelle altre marketing costavano un bordo eh si comprare possiamo comprare tutte sto andando un po' così perché se no facciamo un bordello in mano amore mio sta dormendo col olivia sta dormendo con la testolina in mano oh ci manca la camarino eh la camarino come la compriamo no scura non mi piace questa la compriamo gialla eh l'altra l'abbiamo l'abbiamo comprata questa arancione ragazzi adesso questa possiamo comprare la bella bella giallina si ci stanno comunque le corvette gialle anche la camaro gialla anche del film bubble bee e tutto quanto oh allora questa c'è e prendiamo anche la questa mi piace blu questa mi piace blu ok dai allora facciamo così diciamo che proprio comprarle basta non è piacevole allora ne compriamo una che costa un sacco di soldi e e e la andiamo a provare eh cosa ne pensiamo proviamo questa qui la ciaparal dai compriamo la ciaparal ciaparal dai ciaparal compriamo la ciaparal 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 vediamo la ciaparal com'è ciaparal ciaparal ma si è stranissima bella gara oh io intanto compro una macchinina schifonissima da un milione ragazzi guardate che è brutta la ciaparal bella gara grandissimi ragazzi grandissimi e ciapai rat e ciapai rat proviamola proviamola ma ma come cosa stupenda stupenda a me stupenda mi hanno portato un monso allora bella gara mi sono svegliato e stavo girando con la gr2 ah forte dottor master allora io intanto ho comprato la ciaparal mi sono comprati la ciaparal ragazzi e vabbè pu capita pu capita l'importante che vi siete divertiti è stata bella 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 ragazzi dai allora grandissimo charder morris e maurizio ti ringraziano tantissimo oh la madonna è un missile ma raga guarda è un missile ma cos'è sto lobo eh è stato un coso dell'aereo secondo me grande maurizio amico mio charder è arrivato maurizio ti è piaciuta la sorpresa amico mio grande maurizio grandissimo intanto sto correndo con una macchina che ha dietro un motore di aereo e non so perché è scoppiato tra l'altro ma che macchina è ragazzi ma davvero siamo seri ah ah grande maurizio ah grandissimo grandissimo ah ah è il minimo è il minimo per te due altre dimmi 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 lo più scegli la macchina che andiamo a comprarla che questa qui è un certo è veramente brutta ragazzi dimmi dimmi Loki scrivilo ciao amici grande maurizio è arrivato a farci un saluto che lui sta lavorando è grandissimo sono troppo felice che ti piace la macchina è fighissima te la puoi scaricare tra le tra le le auto seguite eh maurizio io l'ho già messa su una l'ho comprata una apposta in più per te con la tua livrea e basta così poi farò anche le foto eh lo so maurizio c'è un rumore che è incorribile non c'è niente sì sì infatti c'è niente l'interno guarda dentro eh sì c'è il motore di un aereo ragazzi è un mix fantastica ragazzi 400 all'ora dai lo facciamo così la prossima gara voi correte con le gr3 io e io corro con questa dottor master non va bene guarda un milione l'auto sanzara che tra l'altro c'è le ruotine va c'è un un reattore è un reattore ragazzi è un aereo questo qua con le ruotine con le ruotine poi guarda guarda 200 300 400 che rotale dai Loki dimmi le macchine dai si stava dentro però a comprarla dai Loki dimmi la macchinetta che poi andiamo tutti a nanna nannina nannozza oh 28 milioni in realtà sono Lamborghini ce le ho tutte la Ferrari ce le ho tutte la Corvette C7ZR1 ce l'ho ce le ho tutte no eh no ce le ho quelle tre lì ce le ho ce le ho amico mio c'era qualcos'altro che ti interessava guarda ti faccio vedere se prendi un pulsante viene anche un drone eh si allora guarda ti faccio vedere amico mio le Ferrari guarda qua Loki tu sai tu stai parlando con il miglior streamer del pianeta il miglior streamer italiano su Gran Turismo ciao Marco io vado a dormire buonanotte buonanotte anche a te Carla ciao Nick grazie grazie della serata insieme ciao mitico ciao ciao ti aspetto domani sera allora sto facendo vedere la mitico Loki che guarda che ho tenuta sono quelle che ho già comprato eh Loki c'ho anche la Ferrari la Enzo e la FXX poi hai detto mi hai nominato le Lambo giusto le Lambo come mai la Huracan non ce l'ho aspetta allora amici aspetta no però non diceva questa si ma mancava una della Lambo mancava una Lamborghini ragazzi ciao Shard ah ok ok amico mio dai stami bene è stata una bella serata saluta il mio cugino che ci ha scaricato ok saluta anche il tuo cugino è grandissimo bella gara e poi ne faremo tantissime ne faremo tantissime con il tuo cugino incredibile ma quante altro hai in totale quasi tutte allora ascoltami Loki quale colore allora Shard ciao grazie della livrae che hai fatto a Morris grandissimo bellissime gare ci vediamo domani sera Loki scegli che colore è questa dai ti faccio scegliere il colore allora c'è blu rosso arancione giallo grigio nero grigio e bianco ciao Shard domani grazie amico mio ciao ciao ci sentiamo grazie grazie infinite davvero grandissimo hai fatto una livrea pazzesca sei un mito dai Loki scegli il colore scegli il colore un abbraccio ciao ragazzi a domani ciao dottor master è stato bellissimo nera bella lì eccola qua notte amigas ciao dottor master ciao Shard dai compriamo l'ultima vi saldiamo anche noi che bello tardozzo dai l'ultima macchina l'ultima macchina dai non farmela comprare ancora nero mitico Loki dai 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 mi manca solo questa solo la laventador allora ce l'abbiamo rossa arancione gialla verde nera e bianca dai nera l'abbiamo appena comprata non farmela comprare ancora nera un altro colore dai un altro colore dai ragazzi scrivete il colore scrivete il colore che poi ci salutiamo bianca bianca non ce l'ho una Lamborghini bianca arancione bella lì grande e abbiamo speso un altro bel milioncino e vai amore mio così dobbiamo farmare ancora soldi ci sta wow milions allora prima ti avevo detto le Lamborghini ce le avevo tutte ti avevo detto una stupidata quindi adesso ti dico che le Lamborghini ce le abbiamo tutte e lì io l'inganno sceglie i colori esatto e l'altra cosa che vi ho detto la Camaro la Camarino dovrei averle tutte adesso vediamo se non ce le ho le GoPro perché raga allora vediamo questa questa comprata 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 ce le ho tutte ce le ho tutte ce le ho tutte la Camarino ce le abbiamo tutte allora ragazzi sono talmente stanco che io vi saluto però domani Loki entra in live se vuoi vederle in pista ok io le scelgo e te le faccio vedere in pista ok ragazzi se scelete e si non bisogna comprare perché le ho già comprate mi dici quelle che vuoi vedere in pista anche se le vuoi vedere tutte e tre io ci faccio un paio di giri ti faccio vedere come si comportano ok ragazzi allora ciao Loki ciao a veramente a tutti a tutti i miei amici Sharder Dottor Master a tutti Roberta siete veramente in tantissimi stasera vi ringrazio vi ringrazio e buonanotte a tutti ciao della compagnia ciao amici buonanotte a domani a domani amico mio ciao ciao Loki grazie di tutto ciao buona serata buonanotte ciao Nick ciao Nick grandissima Nick ciao Nick grande grande ciao ragazzi ciao ragazzi ci vediamo domani buonanotte buonanotte a tutti a domani buonanotte a tutti